Ok, continuiamo. Ok, cominciamo a parlare del sulfurio, quindi qui lo descrivo, è un errore tipico. Mi effetto si sente proprio questo odore che ricorda tantissimo questa nota di sulfurio. Sì, i composti dello zolfo fondamentalmente, quel sentore là. Esatto. Come dicevo, si sente in aroma e difficilmente il sulfurio lo percepiamo in bocca. Lo sentiamo come retro olfatto, più che altro, delle volte, quello che non è la ricongiunzione tra l'aroma e il gusto, diciamo. Però il sulfurio è una cosa che si percepisce a naso. Anche in questo caso, tornando un attimino al discorso di prima, che ho tralasciato all'inizio, quando noi, torniamo ad esempio al fenolico, se non il fenolico lo percepiamo come affumicato, che fa parte sempre della famiglia dei fenoli, noi sottolineiamo il carattere affumicato qui sulla scheda. Noi dobbiamo cercare di definire il fenolo come lo sentiamo. Ok? E la stessa cosa è per il sulfurio. Come lo senti questo sulfurio? Ricorda le uova a marce, ricorda i fiammiferi, ricorda il carattere quasi del gas. Presente quando usate il gas, il fornello, quell'odore, ecco, quello non è altro che un composto sulfurio che viene aggiunto perché il gas è in odore, per cui quell'odore che sentiamo è un sulfurio e in questo caso non viene riportato, però noi dobbiamo cercare sì di marcare questi caratteri, ma anche di far capire cosa ci hanno trasmesso, cosa ci sentiamo in questi caratteri. Ma te capita anche di aggiungere eventualmente altri descrittori, se non sono lì, o ti limiti soltanto ad evidenziare quello che ti senti? Se uno ha questa capacità deve mostrarla, ed è ben vista questa cosa da chi va a valutare le schede. Ok? È molto importante anche questo. Se il sulfurio, puoi ricordare delle volte anche la cipolla, che poi comunque viene chiamata anche successivamente nei vegetali, nella parte vegetale che poi ci arriviamo, però poi sempre la cipolla, la cipollina, ricorda tantissimo questa nota sulfuria comunque. E non è troppo lontano dal carattere che sentiamo di uova marce, sono tutti composti sul furio, sono tutti molto simili. Passiamo ai vegetali, come dicevo, qui parla di il carattere di vegetali marci o bolliti, l'odore che sentiamo quando bolliamo il cavolo, proprio con l'odore tipico, o la cipolla, o il sedano, o l'asparago anche. E anche in questo caso troviamo sempre dei caratteri di sulfuri, perché comunque la cipolla e il cavolfiore comunque sono dei sulfuri, che però hanno questo carattere sempre vegetale anche, l'asparago, oppure il carattere sempre... delle volte, ecco, ho descritto una cosa che non c'è, il pomodoro. Delle volte in alcuni libri si può trovare quel sapore di pomodoro, dove rientra, fa parte del vegetale, soltanto che qui nella descrizione non lo mette, le possiamo aggiungere quel carattere, ok? Una cosa che è difficile trovare, però intanto si trova, ed è una cosa che non è piacevole, però fa parte sempre comunque del vegetale. Infine andiamo sul carattere isti, ovvero lievito, sali lievito. Ricorda moltissimo l'odore dell'impasto, della pizza, del pane, diciamo. O se no, chi fa l'hombreuer, quando va ad aggiungere il lievito, si mette a nusarlo, se ne accorzi tantissimo di questo carattere. Quindi, anche in questo caso, è un carattere che non vogliamo trovare una birra, e questo decisamente è sempre un difetto. Il carattere isti non può mai essere una cosa positiva, diciamo. Non è una cosa che può essere un descrittore positivo, ma è sempre esclusivamente un difetto. Dopo anche lì capirete pian piano, imparando tutti gli stili, cosa può essere difetto, o cosa può essere anche non difetto, ok? La cosa molto importante è che io ci premo comunque, e sottolineo ancora di più dirvi, è veramente di cercare di fare veramente il focus sui punti cardine di uno stile e sui limiti di quello stile. Io quando faccio le giurie, cerco di essere un po' più buono, diciamo, nel penalizzare il difetto di stile, nel senso che, se mi si presenta una brown ale, per fare un esempio, che è un po' più tostata, che potrebbe quasi essere una porter, una brown porter, cerco comunque di non penalizzare più di tanto. Il mio approccio è quello corretto, diciamo, perché comunque gli stili ci sono, sono ben definiti. Però mi metto anche nei panni di un homebrew che magari non conosce bene gli stili, uno che ha le prime armi e deve anche capire questa cosa qui, e non voglio bacchettarlo più di tanto, non voglio penalizzare più di tanto il difetto di stile. Viceversa, mi piace più, cioè, mi piace, sono più per penalizzare maggiormente il difetto tecnico di produzione, quello quando faccio le giurie io. Però, nel BJCP è molto categorico, prendete quello che avevo detto con le pinze, perché se la birra è fuori stile, la birra è errata, ok? Se ha qualche nota fuori stile, va penalizzata, e non poco, come dico io, ma va penalizzata abbastanza. Dopo Francesco mi dice che sono cattivo, ma in realtà sono molto buono nelle loro testazioni. Allora, c'è qualche domanda. Allora, vabbè, l'entry exam, quello che si fa online, è in inglese, perché avevano scritto, giusto per dare una risposta, è il testing exam, quindi la degustazione, l'esame di degustazione, che può essere, la scheda può essere scritta in italiano, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, viene poi tradotta, quindi bisogna anche essere abbastanza attenti quando si fanno delle descrizioni. L'idea anche di non essere a volte troppo poetici, o come diceva Francesco la scorsa volta, differenziare tra lo scrivere un articolo su una rivista in cui puoi essere prolisso, e poi anche utilizzare termini anche che devono rendere l'idea, versus una scheda di valutazione tecnica che deve comunque attenersi ai termini strettamente legati al mondo della birra. Puoi dare un'immagine che possa evocare un qualche sensazione, però poi attenzione, perché in fase di traduzione la maggior parte di questa poesia si perde, è inutile anche perdere tempo a scrivere cose del genere, quando magari poi si arriva alla fine della scheda, il tempo è quasi assaurito, e si lascia prendere dalla velocità, e si omettono cose importanti. Poi mi dicevano, la parte dei descrittori, tu la fai alla fine, o man mano che vai compilando la scheda, se ne identifichi qualcuno, subito te lo vai a segnare? Come fai? Appena ne rilevo uno, anche durante, nel senso sto bevendo la birra, a un certo punto mi accorgo di questa cosa, la vado a mettere, tanto ci meno di due secondi, un attimino mi sposto due secondi su quel campo, metto la crocetta o il flag, e vado un attimino a sottolineare, o a enfatizzare quanto sia intenso, diciamo. Ok, direi che ci siamo, allora io direi che possiamo anche chiudere. Vedo che c'è una domanda, in sovrimpressione, riesci a leggere meglio tu, il fuori votazione? Vediamo, vediamo. La starting guy dice, good ratings 21-29, should be assigned to good presentation of the style, sta praticamente copincollando quello che dice. Sì, sì, e la domanda qual era? Allora, aspetta, quindi vediamo fuori. Allora, ci sono un paio di domande, allora, vediamole tutte, si stanno giustamente, allora, andiamo un po' indietro. Ripeto la domanda di prima, che magari è andata per tutta. Allora, seguiamo quanto dici te adesso. Allora, il foglio di valutazione dice good 21-29, la starting guide dice good ratings 21-29, quindi quanto bisogna dare ad una birra fuori stile? Quindi, sulla base, diciamo, dello scoring guide, quindi, di quello che è un po' il riferimento, quanto bisogna dare ad una birra che è fuori dallo stile? Come ti regoli tu in questo caso? Io, allora, voglio citare un esempio che mi ricordo che la stessa domanda la facciamo noi esaminando a Gian Riccardo, e fu veramente molto chiaro. una PILS fatta con il cascade, per fare un esempio, quindi una PILS fatta con un lupo americano, non può arrivare a 30, diceva Gian Riccardo. E quindi, voglio riportare questo esempio pari e pari, per farvi capire quanto, un difetto, quindi una PILS fatta con il cascade è proprio fuori stile, ok? E quindi non può arrivare al 30. Ok, quindi, ovviamente sì. Dopo bisogna capire quanto fuori stile, nel senso se, se, una IPA è abbastanza maltata, cioè, è fottile che adesso bisogna un attimino capire quanto va fuori stile, dopo quel punto bisogna essere un attimino, prendere il polso, diciamo, nelle valutazioni, proprio per riuscire a dare una penalizzazione corretta, senza andare a penalizzare troppo o troppo poco. E quello si impara facendo le schede. Allora, io, una cosa che consiglio anche, nel sito del BGCP si vedono già schede già fatte, in cui trovate le valutazioni, e dalla descrizione voi capite se la birra sia stilisticamente corretta o meno. Diciamo che il sito del BGCP è molto ricco di materiale utile, anche per quanto riguarda i feedback sui difetti, fa una bella carrellata, e quindi uno che magari non è un ombruere, quindi non conosce benissimo la produzione, può capire, può imparare moltissimo anche da queste schede che fanno preparare gli esami, in cui puoi trovare tantissimo materiale, nonostante tu puoi non essere un ombruere, un produttore, che comunque secondo me è un gran vantaggio, è un punto enorme di aiuto, perché se tu conosci veramente come si possono usare i difetti, puoi anche più semplicemente raccontarli, mentre chi è un attimino un po' accorto di queste conoscenze, fa più fatica a capire dove il difetto è originato, e di conseguenza dare il feedback e il consiglio su dove andare a parare. Penso di essere stato chiaro. Sì, guarda, visto che vedo che oggi sono molto attivi, allora, questa te la dico dopo, allora sì, qualcuno dice, nei descrittori si può indicare, o si deve indicare anche l'intensità, tu che dici? Sì, 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 è quello che ho detto io, l'intensità, abbiamo comunque, non ci sono dei campi specifici delle righe su cui scrivo, però lì a fianco, se io trovo un accenno di acetaldeide, ad esempio, come prima voce, a fianco scrivo in italiano leggera, o in inglese love. Ok. Ok? È molto meglio cercare di descrivere quanto sia intensa, altrimenti può essere veramente bassa, può essere altissima, così come il DMS, se a livelli bassi sentiamo appena un pochettino di mais, se il DMS è esplosivo a livelli alti, va sul pomodoro, sul vegetale cotto, sul brodo di gamberetti, di pesce, è molto pungente. E quindi anche in quel caso, dobbiamo enfatizzare quanto il livello sia alto o meno, che poi, anche, lo riportiamo anche dopo, nella compilazione a destra della Roma, ad esempio. Ok? L'intensità la ritroviamo sempre, quando l'abbiamo rilevata, però riportarla anche a fianco è importante. vi fa capire comunque sempre di più... ultima domanda così... Sì. Vai, vai, finisci, finisci, scusami. No, fa capire sempre di più che noi abbiamo la conoscenza dello stile e la capacità di descrivere e di riconoscere queste cose. Noi dobbiamo far capire quanto siamo bravi, quanto abbiamo appreso nello studio. e più io faccio capire questa cosa e più chi va a valutare la mia scheda capisce che ho imparato e sono pronto per fare delle giurie. Chiudiamo con la domanda di Roberto, per ti carini, l'americano. Allora, Matteo, a livello on-brewing, in caso di difetti molto evidenti, sei per penalizzare molto la birra o tenerti più alto nel punteggio? Quindi ambito on-brewer, se sei davanti a difetti parecchi evidenti, come ti comporti? Allora, anche se siamo comunque negli on-brewer, bisogna comunque essere abbastanza diretti. Questo non vuol dire che gli dico che la birra è imbevibile, che la birra è una porcheria, perché tutti dobbiamo sempre essere umilissimi. L'on-brewer apposta mi manda la birra perché sa che comunque la birra ha dei difetti, vuole capire quali sono e vuole capire come migliorarli. Io stesso sono stato on-brewer e io stesso mi metto nei panni dell'on-brewer. L'on-brewer deve crescere. Se io lo bastono, lo uccido, lo uccido nel morale. Ci vuole un po' di bastone, un po' di carota, nel senso, gli devo far capire bene qual è il difetto, gli devo far capire quali sono i punti di forza e questo è molto importante, come dicevo prima, nell'overal impression, nell'ultima voce, da dove ripartire e cosa andare a migliorare. però sempre con umiltà, perché noi dobbiamo sempre essere umili, perché se l'on-brewer è appena iniziato a fare birra, ci siamo passati anche noi, anche noi abbiamo iniziato a fare birra, anche noi all'inizio, le nostre prime birre facevano schifo, però non avremmo voluto sentirci lo dire. e quindi ci vuole umiltà, ci vuole benevolenza, però bisogna anche essere diretti, c'è questo errore, c'è questo difetto, è ben netto, cerca di migliorare in questo modo, è ben netto, è troppo decisivo, è troppo pungente, non è piacevole, la birra rovina il carattere della birra, c'è, sappi che c'è, però non gli dico che la birra è imbevibile, e di conseguenza, e poi mi ha chiesto anche quanto enfatizzare, quanto enfatizzare, l'enfasi ovviamente va data, cerchiamo di non ucciderli nel morale, cerchiamo di non esistere di andare sotto i 13, secondo me, a meno che proprio la birra non sia veramente imbevibile, però comunque cerchiamo di essere chiari, la chiarezza, la trasparenza, la limpidezza, la completessa, è la cosa che insegna il BGCP, dobbiamo essere completi nella descrizione, sintetici ma completi, come dicevi tu, non bisogna andare troppo nel dettaglio, ah, una piccola cosa che volevo dire, nel BGCP, ad esempio, troviamo oggettivi che sono come floreale, come agrumato, noi possiamo andare invece nella scheda più in specifico, se conosciamo un po' di più i fiori, possiamo andare a mettere, ricorda la rosa, ricorda il gelsomino, ricorda i fiori bianchi, ricorda il geranio, se conosciamo gli agrumi, possiamo andare a ricordarli, ricorda più il limone, il pompelmo, il bergamotto, l'arancio, il mandarino, e qui possiamo essere più specifici, e quindi questo fa parte della nostra capacità descrittiva, dobbiamo mostrarla, ok? Questa è una cosa che prima non abbiamo detto più di tanto, però quando si parlava di sintetizzare, di essere sintetizzati ma dettagliati, in questo caso il dettaglio, in questo caso è positivo, ma non andare come in Civita scrivere dei poemi, delle cose, della goccia di ruzzada, come ad esempio. Sì, questa poesia che a volte si sta, anche perché è vocativa, è bella, però sì. Sì, le vocazioni, esatto, sono un po' troppo, lasciano un po' il tempo che trovano, diciamo. Sì, sono relative. Allora ragazzi, io direi che possiamo anche chiudere, o ringrazio Matteo, sempre disponibile. Grazie a voi. Abbiamo sforato, ma era inevitabile, perché ovviamente andare nel dettaglio della scheda, però andava fatto, e sono contento di averlo fatto con te fondamentalmente, ci conosciamo da parecchio. Quindi ragazzi, un abbraccio a tutti, buon primo maggio, grazie Matteo, e ci aggiorniamo a breve con altre dirette, con altri giudici di GCP. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao Matteo, ciao. Ciao.